cari amici amanti della medicina naturale ma anche della storia romana eccoci a un nuovo direi appassionante episodio della nostra storia che si rifà alle antiche antiche storie tradizione romana parliamo abbiamo parlato di romolo pochi giorni fa ora parliamo del suo successore di nuva pompiglio nuva pompiglio era un sabino ed era il genero di quel tito tazio che aveva regnato assieme a romolo dopo il ratto delle sabine quando i due popoli si erano messi assieme e c'era stato il il romano ovvero romolo e tito tazio il sabino poi sappiamo che dopo un po di tempo il sabino o muore viene ucciso e il potere rimane rimane a romolo dopo di lui questa monarchia romana che in realtà è una monarchia elettiva fa sì che i romani si recano nella città sabina a chiedere che Numa pompiglio ecco anche qui tutto il concetto il nome ha sempre una ragione come romolo anche se non l'abbiamo parlato l'altra volta deriva da rumon che vuol dire voleva dire il tempo fiume quindi romolo figlio del fiume figlio figlio del terra romolo e remo anche remo romo romolo quindi il nome romolo significa figlio del fiume il nome Numa pompiglio deriva dal concetto della della legge no nomos da greco legge quindi Numa sarà colui il secondo re di Roma che strutturerà meglio la società romana darà delle leggi non è il re della guerra è un personaggio noto per essere un personaggio pacifico e per aver costruito altari templi aver fatto aver istituito congregazioni religiose eccetera eccetera quindi questo è il passaggio diremo strutturale che però struttura in maniera molto acuta la nostra vita che quando si vuole dominare un popolo si struttura soprattutto si domina con la regione e quindi Numa pompiglio dà delle regole estremamente ferree che ci vanno ricordare quasi le regole del famoso filosofo Pitagora però lui non può essere un allievo di Pitagora perché Pitagora è vissuto circa 300 anni dopo però se noi guardiamo quello che ha fatto Numa pompiglio si fa richiamare Pitagora crede Pitagora aveva delle regole stranissime chi seguiva le sue lezioni non poteva prendere appunti bisognava di digiunare moltissimo bisognava non vedere il maestro c'è tutta una serie di cose che si veniva dietro uccisi se si rivelava cosa aveva detto il maestro e così Numa pompiglio anche lui va dà delle regole estremamente severe delle regole estremamente delle regole religiose e noi sappiamo che più tu dai delle regole a un gruppo di persone più li leghi da puntista religioso più li incateni più li fai seguire più li domini questo è il concetto quindi Numa pompiglio è stato solo apparentemente un bonaccione diremo su apparentemente lui è il quando vanno a proporgli di diventare re di Roma lui aveva 39 anni dice ma perché dovrei diventare re di Roma perché dovrei abbandonare la mia vita abitudinaria di cosa di cosa ho bisogno diremo però in realtà dopo aver detto queste frasi bellissime eccetera eccetera in realtà ci ripensa e di gran carriera vuole diventare re di Roma ecco questo è il concetto e Numa pompiglio rappresenta per Roma l'elemento sabino e con noi è importante che cominciamo a conoscere alcuni tratti molto importanti ve li ricordano in Roma abbiamo l'elemento romano che è rappresentato da Roma della sua atteggiamento l'atteggiamento di un po di apertura cioè questi romani che era era dei briganti alla fine dei pastori ma anche dei ladri dei briganti estremamente violenti perché Romolo aveva attirato a Roma anche fuggitivi ladri violenti così a questi erano i romani sostanzialmente poi questi si erano uniti abbiamo visto dopo il ratto delle sabine questo l'unione questi due popoli i romani sabini con questi personaggi molto raffinati che erano i sabini anche sabini che erano molto legati alle tradizioni indoeuropee erano molto legati a quei popoli nomadi come ha detto tante altre volte venivano nella grande immigrazione che ci fu attorno al 1000 avanti cristo che venivano dal sud della russia sostanzialmente e poi l'altro elemento invece è l'elemento etrusco l'elemento etrusco contro il quale Numa Pompilio lotterà sempre in questa nel suo regno nell'elemento etrusco sono questi soggetti che semitici sostanzialmente che che vengono dalla dalla Lidia dall'Anatolia i quali sono caratterizzati dal da alcune credenze religiose particolari non credono sostanzialmente nell'aldilà e sono caratterizzate dal fatto che i semiti inumani morti invece gli ariani bruciano i morti la cosa interessante per capire proprio il legame tra Numa Pompilio e gli ariani sta anche nel fatto che vediamo che quando lui fa il suo più famoso e che c'è ancora tra l'altro il più famoso e primo templio che lui fa edificare il tempio alla dea Vesta fa un tempio rotondo ecco anche lì chiediamoci perché sembra una cosa banale ma perché edifica un tempio rotondo quando normalmente i tempi sono quadrati i tempi quadrati rappresentano la stabilità la stabilità il tempo era il tempo era il tempo era orientato con ingresso a oriente era rappresentava una popolazione con tendenza stabile invece il tempio rotondo richiama la tenda la tenda dei popoli nomadi che troviamo ancora perché se noi andiamo a vedere i mongoli vivono ancora in queste in questi yurk in queste tende rotonde ecco i popoli nomadi vivono nella tenda e questo primo templio il tempio di Vesta fatto da Numa Pompilio richiama vuole richiamare le tradizioni indoeuropee le tradizioni indoeuropee che Numa Pompilio si sforza durante tutto il suo regno di instaurare è un grande restauratore della religione della religione e dell'ordine del moltissime cose sono sono vietate non solo diremo al al popolo cioè lui tende a anche a ridurre la la libertà femminile per esempio tende tende a a dire alle donne non possono a malapena parlare devono stare molto spesso zitte devono non addobarsi in maniera particolare quindi voglio dire il c'è questo atteggiamento che poi ritroveremo in parte anche in un grande altro restauratore della della romanità che è come sapete bene il cartone censore anche qui si vuole quando si il rigore e la questa religiosità eccessiva alle volte crudele è tipica dell'indo europeo mentre viceversa il lassismo è tipico dell'etrusco ed è tipico dell'orientale se sempre questa lotta continua tra il rigore indoeuropeo romano e il lassismo che catone identifica nei greci e nei cartaginesi ma che a grandi linee possiamo dire caratterizza tutti i popoli orientali e si differenzia dagli ariani delle stelle delle steppe sostanzialmente no quindi questo concetto di numma pompiglio che da dei dei dettami no da dei dettami lui erige un un tempio importante sul gianicolo che si chiama gianicolo perché è intitolato al deo giano e giano è il grande dio che che viene diremmo esaltato da numma pompiglio il dio che vede contemporaneamente davanti e dietro il dio che il cui templio veniva chiuso quando finiva una guerra per esempio ed è stato chiuso molto poco durante roma è stata quasi sempre in guerra poche volte è stato chiuso il tempo il tempio di giano ecco e numma pompiglio dicevo tende a creare tutta una serie di di altre cose che poi troveremo ancora nella storia romana oltre ad essere a mettere ancora più il l'accento sul ruolo delle vestali che devono rimanere vergine che se non adempiono a questo vengano seppellite vive e oltre a fare questo questo ordine religioso femminile instaurò anche i flamini i flamini era un ordine invece maschile di persone che dovevano come dice flamen flamini vigilare anch'essi sulla fiamma su come le vestali doveva vigilare su questa fiamma ecco i popoli primitivi nomadi portavano con sé il fuoco le bracci di fuoco dove non doveva essere ogni volta ricreato ed era preziosissimo questo fuoco che viene che viene apportato quindi i flamen ma ma lui lì lì sobbarca di tantissime doveri sostanzialmente quindi il flamen deve stare attento deve mettersi il cappello quando esce per esempio non deve c'è questo rapporto tra e di richiamiamo tutto il concetto dei anche degli ebrei che si coprono la testa per per questo non contatto che ci deve essere con con dio no i flamen non possono spostarsi da roma i sacerdoti flamen non possono portare armi eccetera eccetera vedremo come questo queste regole diremo come al solito sono usate dalla politica quando parleremo di cesare vedremo che silla che voleva che temeva cesare ancora quando era molto giovane lo costringe a diventare flamen e poi pontefice massimo in modo che non potesse portare le armi non potesse fare la guerra eccetera eccetera poi naturalmente cesare si affrettò appena possibile a rinunciare a queste caratteristiche di guida religiosa che gli bloccavano qualsiasi possibilità di guida politica quindi questo questo numapompiglio ci apre alla comprensione di moltissime cose per la comprensione del concetto della regione delle regole di ciò che che vuole essere in realtà la regione come elemento molto spesso di dominio sulle persone quello che il politico usa per dominare sul popolo questo è stato questo numapompiglio che poi non era un personaggio così bonaccione come ce lo vogliono far sembrare il numapompiglio stabilisce poi una serie di cose stabilisce per esempio lo vedremo altre volte quando parleremo del calendario romano stabilisce i dies fasti e i dies nefasti ci sono dei giorni in cui non si possono fare tante cose perché non sono sono giorni sfortunati e stabilisce anche il nuovo calendario che inizierà dal suo diremmo dio preferito che janus ovvero giano e januarius gennaio sarà per la decisione di luma pompiglio il primo mese dell'anno quindi tutto questo concetti molto particolari come dicevo luma si lascia la città sabina e quares dove viveva dove aveva avuto già una una prima moglie e da questa prima moglie aveva aveva avuto quattro figli ecco quattro figli e si trasferisce a roma a roma avrà una un'altra fi un'altra figlia la pompiglia e questa pompiglia sposerà un un sabino che poi ritroveremo questo questo sabino più avanti sposerà marzio che pompiglia e marzio darà una luce ad anco marzio che sarà poi il quarto ora di roma quindi c'è tutto un collegamento particolare ecco luma pompiglio avevamo era tra l'altro era nato nel giorno della fondazione di roma era nipote di quel tito tazio che abbiamo visto era tra i due primi re di roma e c'è tutto questo legame che non legame ereditario per i romani erano elettivi sostanzialmente ma c'è questo legame che corre diremmo nella che corre nella storia di roma luma pompiglio dice sempre lui non è un dice io non discendo dagli dei ma voleva far credere come vedremo anche qualcun altro come anche faceva scipione l'africano di dialogare direttamente con gli dei dice io sono nato da da un uomo e da una donna però lui per esempio diceva che si incontrava sempre con una una ninfa una ninfa la ninfa la ninfaigeria che non sappiamo che fosse un incontro diremmo religioso ma pare che fosse in realtà la sua amante la ninfaigeria o forse questa pompiglia pare che sia stata generata con la ninfaigeria la ninfaigeria era il suo collegamento col divino sostanzialmente quella che suggeriva tutte le sue iniziative politiche quindi lui imponeva delle leggi religiose o politiche me l'ha detto la ninfa la quale ninfa era naturalmente collegata con gli dei quindi c'è questo questo legame questo richiamare e questo lo vedremo poi in tutta la storia quando nel medioevo un nobile vuole imporre qualcosa un re vuole imporre qualcosa beh sì io sono il re per volere di dio tu ti sei poveraccio del popolo io impongo la legge ti sottometto e ti sfrutto perché io sono unto da dio ecco questo primo questo concetto lo troviamo proprio inizialmente questo concetto di potere di potere anche di abuso di potere del sovrano sul popolo lo troviamo proprio nei suoi germi proprio da luma pompiglia questo è estremamente interessante perché altrimenti se uno legge la storia così diceva questo che bravo ha fatto i templi ha fatto ha istituito i sacerdoti ha istituito anche il pontifex ecco il pontefice massimo pontifex viene da ponte colui che fa la da ponte tra il sacro in un certo senso e il profano tra gli dei e l'uomo ha istituito anche questa figura diremmo del pontefice che è media diremmo il volere degli dei e la trasmette agli uomini anche qui ci sarebbe moltissimo da da dire ecco quindi questo luma pompiglia vedete un personaggio un po particolare che che quando c'è un un anno con un raccolto scarso chiede agli dei cosa fare dalla ninfa igeria dice allora tu uccidi questa questa questo animale questa sacrifica questa mucca e poi tutto il raccolto ovviamente va bene poi tutti temevano quel tempo i fulmini no c'è un terrore pazzesco dei temporali dei fulmini e allora lui interpella giove interpella giove e giove gli spiega come fare per perché i fulmini non siano così pericolosi per il popolo e quindi metterà per esempio una testa di cipolla cioè tutta una serie di cose strane ideate da questo da questo personaggio c'è anche un aspetto interessante dal punto di vista della medicina della medicina naturale io voglio sempre trovare un aspetto anche medico nella nelle storie che che vi raccontano lui c'è un momento che vuole che degli dei in dei dei boschi in intercedano per lui con lui per parlare con giove proprio per chiedere a giove di spiegargli come proteggere il popolo dei fulmini e allora questi due dei sono picco e fa uno e siccome questi non vogliono fare questo favore lui li ubriaca li fa addormentare con del miele e del vino ecco allora io anche vi propongo in chi soffre di insonnia per esempio e prende mai qualche goccia di tavolo o altre benze azzeppine mai di provare ecco già che questo questa antica ricetta diciamo che si viene da un numero pompiglio due tre dita di un buon vino ecco vi parla di un buon vino rosso con un buon cucchiaio di miele e prima di andare a letto potrebbe essere una buona soluzione con la quale un numero pompiglio addirittura ha addormentato gli dei quindi si è addormentato gli dei evidentemente questo funziona molto bene anche negli umani allora questo personaggio diciamo un po' austereo un po' rompiscatole che abbiamo visto in un numero pompiglio vive molto a lungo come tutti questi personaggi un po' particolari vive molto a lungo muore a 83 anni dopo 44 mesi 44 anni di regno e e tra l'altro di cosa muore no muore i romani riferisco a muore di del dolce male che è l'espressione che plutarco usa per parlare del rimbambimento aterosclerotico quindi lui diventa aterosclerotico e muore diremo felicemente contento di aver di aver fatto cose molto molto buone muore di demenza semide sostanzialmente ecco quando muore c'è un'ultima cosa che vi voglio raccontare viene se vengono fatti due sarcofagi in un sarcofago viene messo il corpo di numma pompiglio nell'altro sarcofago vengono messi tantissimi libri che lui aveva scritto con tutte queste regole pazzesche queste queste sue queste questi dettami di tipo religioso politico eccetera eccetera che lui aveva messo e alcuni dei quali poi diceva se non fate questo verrà la rovina su di te su roma eccetera eccetera vediamo come circa 300 anni dopo a roma ci sarà un grosso temporale fortissimo una specie di alluvione e la tomba di numma pompiglio viene scoperchiata e si trovano questi due sarcofagi e la cosa interessante vediamo che nel sarcofago dove era stato sepolto lui a pompiglio non c'è nessuno non c'era nessun segno di di essere umano cosa vuol dire che molto probabilmente lui era stato si doveva essere messo nel sarcofago perché questa era il in un certo senso l'usante etrusca che si che stava avendo diremmo un certo prevalenza a roma però lui a pompiglio come re tipicamente indoeuropeo non poteva essere umato invece e quindi segretamente viene cremato e quindi non troviamo nulla nella sua tomba ma cosa ancora più interessante nell'altro sarcofago ci sono tutti questi testi che lui ha scritto e quando nell'appunto il console di quell'anno del adesso non ricordo del cento e ottantuno avanti cristo trova questo questi 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 scritti guarda questi scritti e poi riunisce il senato e decide che tutti questi appunti diremmo che aveva fatto numa pompiglio devono essere bruciati e vengono bruciati ovvero vengono distrutti tutte queste 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 regole che presumo io deduco sarebbero state regole estremamente dure difficili inquisitorie che avrebbero certamente bloccato in una sorta di di stato di tipo di spagna cinquecentesca succube dell'inquisizione la repubblica romana che invece grazie il fatto che questi e questi libri sono stati bruciati può vivere diremmo la sua grande espansione col contatto anche naturalmente contatto con la grecia contatto con l'oriente tutti questi contatti diremmo che non vanno naturalmente a intaccare la radice undoeuropea che però permetteranno da questa fusione questa grande espansione che porterà poi alla gloria e dell'impero romano arrivederci al prossimo incontro ciao